calcio serie c 2 euro gol di pesce ferretti condannano il gubbio a cui non basta il rigore di marchi la feralpi vince 2 a 1 stasera torna fuori gioco alle 21 ospite gian marioli serie b perugia sconfitto 2 a 1 sul campo dell'ellas verona vido fallisce il rigore del possibile pari domani c'è già l'infrasettimanale alcuri con il padova volle super lega sir perugia detta legge anche contro trento buonasera ben ritrovati con l'informazione sportiva la trg il calcio in primo piano con la serie c perché nella nona giornata di campionato il gubbio si ferma di nuovo esce sconfitto 2 a 1 da salò stasera alle 21 non perdete l'appuntamento col salotto sportivo di fuori gioco per analizzare nel dettaglio la partita e l'andamento del campionato tra gli ospiti l'ex ds rosso blu stefano gian marioli ma riviviamo il match di salò in questo servizio ferralpi salò contro gubbio sotto la pioggia battente del turina per la luna giornata del girone bdc toscano orfano dell'erone caracciolo opta per il 3 4 3 sandriani senza gli infortunati caso le conti conferme il 4 3 1 2 passano poco più di 90 secondi e dopo un'azione convulsa pesce riceve su 25 metri controllo e mancino radente che colpisce il palo interno e come una palla da biliardo carambola dalla parte opposta dell'area l'occasione sfuma al diciannovesimo ferretti sfonda sulla destra cross basso a deludere l'uscita di marchegiani ma due passi dalla linea e specie anticipa con destrezza mattia marchi facilitando l'intervento del portiere figlio d'arte pochi secondi dopo benedetti gigioneggia maldestramente davanti l'area mattia marchi gli sfila palla scambia con vita si decentra sul mancino e lascia partire un potente tiro ad incrociare su cui è provvidenziale il tuffo di marchegiani sul corner susseguente torsione di scarsella sul secondo palo dove guerra arriva con un attimo di anticipo e la sfera termina fuori al ventiquattresimo crossa campanile di tofanari ettore marchi controlla e spalla la porta porta a scuola in combo magnino e paolo marchi mancini in un fazzoletto neutralizzato da di lucia in due tempi al trentaduesimo punizione dal fondo di ferretti colpo di testa di legati e raffaello subentrata all'infortunato guerra in mischia anziché dipingere riesce solo a scalpellare quarantunesimo minuto parodi riceve sull'auto sinistro salta secco ad entrare malaccari ed appoggia per pesce dopo il controllo il mancino del centrocampista ex cremonese sembra essere guidato da un joystick il pallone prende potenza e si infila proprio sotto l'unico c'è dei pali un gol da playstation una prudezza balistica clamorosa per pesce che sblocca la partita siglando la sua prima rete in campionato la reazione del gubbio arriva a pochi secondi dopo sponda era di marchi per campagnacci che sul posto legati ed appena dentro l'area calcia un diagonale mancino di poco fuori così si chiude il primo tempo nella ripresa subito dentro battista per casiraghi ma il sessantaduesimo ferretti riceve un lancio lungo esegue una serie di giochi di gambe sue specie manda vuoto anche il raddoppio di l'oporto uscendo dall'area esegue una virata fulminia condita da un sinistro che passa sotto il corpo di marchigiani e si deposita in fondo al sacco una realizzazione superba da attaccanti di razza il team benacense si porta sul 2 a 0 ed è la seconda gioia personale in stagione per l'ex cardiff sandriani allora inserisce petrelli schiaro le plescia per l'oporto ricce campagnacci al 69esimo su corner battuto da battista mattia marchi tocca la palla con un braccio in piena area per l'arbitro michele giordano di novara e calcio di rigore dal dischetto va ettore marchi che con un destro secco imparabile in fila de lucia che comunque intuisce la traiettoria per il gol che riapre appieno la contesa terza reti in campionato per il capitano e gubino e dopo un minuto sempre marchi offre un'assistenza prelibata plescia che calcia di destro sul primo palo ma de lucia si esibisce con una gran parata di piedi rifugiandosi in angolo il gubbio provi il forcing ma al minuto 87 arriva il primo giallo a schiaroli per una trattenuta reiterata su vita un minuto dopo ci prova battista direttamente dalla bandierina ma de lucia con i pugni respinge e poi sul tentativo di de silvestro subentrata tofanari blocca la sfera ed un minuto dopo un'altra trattenuta di schiaroli questa volta su mattia marchi è punita dal direttore di gara con la seconda ammunizione e la conseguente espulsione per il difensore rosso blu nonostante l'inferiorità numerica il gubbio prova a chiudere in attacco ma la feralpi gestisce il vantaggio ed ottiene tre punti che la lanciano verso le zone nobili della gradatoria a quota 14 il gubbio resta invece a 8 e domenica prossima sempre alle 14 e 30 l'undici di sandreani dovrà fronteggiare al barbetti il rimini dell'ex acori e ne altre gare del girone da segnalare la sconfitta del pordenone capolista che cade in casa contro la fermana ora una sola lunghezza dai ramarri esordio vincente per brocchi sulla panchina del monza capace di violare 2 a 0 il campo del fano mentre acori ottiene un pari a reti bianche con il suo rimini che domenica sarà avversario del gubbio vittoria anche per triestina e teramo pari tra vispesa raimolese e non ha giocato la ternana con la mentre vediamo la classifica in sovrimpressione non ha giocato la ternana con la san benedettese ma meno che la figi c non decida diversamente domani nel consiglio federale il prossimo weekend tutte le partite torneranno a disputarsi la lega dc infatti seguendo le disposizioni del consiglio di stato è intenzionata a far disputare le gare del weekend del 3 4 novembre anche alle squadre attalmente ferme a causa del caos di serie b domani comunque atteso il verdetto della federazione gioco calcio guidata dall'ex presidente della lega dc gravina in serie b ancora una sconfitta per il perugia che capitola 2 a 1 al 20 godi con l'ellas verona al termine di un'altra gara controversa grifo avanti col melchiorri a fine primo tempo pareggia anders per i perdoni di casa all'inizio riprese il gol dell'ex di carmine porta avanti gli scaligeri ma il perugia avrebbe un calcio di rigore per pareggiare ma l'ido viene ipnotizzato da silvestri resta quota 8 la squadra bianco rossa che già domani sera alle 21 tornerà sul campo di casa nel turno infrasettimanale contro il padova dell'ex bisoli sentiamo le parole di mister nesta abbiamo fatto una buona partita abbiamo avuto tante occasioni non siamo riusciti a far gore abbiamo sbagliato rigore la domenica la partita passata abbiamo fatto una cosa simile paghiamo troppo l'episodio avversario fa non fa tanto riesce a far gol noi facciamo tanto non facciamo gol siamo un po perdenti negli episodi in questo momento però la squadra ha giocato gioca sono contento di quello che fa però sono stufo un po di di non raccogliere mai niente nonostante partite buone e però è questo è una grande squadra ha un ottimo allenatore ottimi giocatori per me la squadra attrezzata non solo per la rosa ma anche per lo staff tecnico che ha per puntare alla serie a e perciò faccio in bocca al lupo a fabio suo percorso noi guardiamo a casa nostra e ripartiamo e nella nonna di campionato sorridono due delle umbre delle tre umbre di serie di il bastia di bonura ci ha preso gusto e dopo la prima vittoria nell'infrasettimanale vince la grande anche ad agliana con un netto 3 a 0 salendo a quota 8 domenica positiva anche per il cannara che batte di misura il monte varchi e sale a quota 13 alle spalle del trestina che invece cade in casa al novantesimo per mano del gavorrano in eccellenza il foligno vince a città della pieve 2 a 1 opera il sorpasso salendo al vertice della classifica i falchetti approfittano con le reti di francioni e vent'anni dello stop forzato dell'ama la cui gara casalinga color vietana è rinviata con il risultato però di 0 a 1 per gli ospiti vola anche lo spoleto corsaro 3 a 1 a ponte valle ceppi mentre pareggiano ellera e castel del piano cade l'angelana di misura sansepolcro mentre il salsisto vince in trasferta massa martana abbiamo visto anche la graduatoria con il foligno primo in classifica in promozione girone a dove tiferno continua a fare la voce grossa 3 a 0 la pietra lunghese vetta confermata più 5 dal casa del diavolo vittorioso in casa del trasimeno bella cinquina del branca che vince in trasferta a selci sale al terzo posto nel girone eccolo alla classifica con tiferno alla guida casa del diavolo e branca a seguire nel girone b vince 2 a 1 in casa e in rimonte il gualdo casa castalda sul monte franco e rosicchia due punti al campitello fermato sul pari dalla merina si avvicina al vertice anche la nestor che torna a corsara da terni est questo il quadro ovviamente della situazione per rivedere tutti i gol e fare il punto sui campionati dilettantistici vi rimandiamo alla replica di umbria sport di silvano baccarelli stasera in onda le 21 e 15 sul canale trg 2 211 chiudiamo col volley se il safety con ad perugia che vince e rimonte il big match della terza di superlega contro l'itas trentino e conferma il primato in classifica punteggio pieno in coabitazione con civita nuova primo 7 perso 17 25 poi la riscossa con i successivi parziali 25 18 26 24 25 22 grande trascinatore leon autore di 26 punti ora testa già la sfida di giovedì primo novembre o con un altro big match stavolta a domicilio di civita nuova in a2 la bartocini perugia nienta 3 a 0 torino al palabarto ne sale al secondo posto in classifica a quota 10 punti per le perugine di bovari giovedì trasferta san giovanni marignano è tutto per il tg sport e replica intorno alla mezzanotte trenta che domani ritroverete sul nostro sito trgmedia.it vi ricordo i appuntamenti della nostra serata sportiva dalle 21 fuori gioco a seguire 11 in campo alle 22 alle 23 torna sport e incontri con una puntata dedicata al motor sport è tutto grazie buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti